Il punteggio è forse troppo severo, ma la certezza è che la Dolomiti Bellunesi non sembra ancora pronta per puntare alle zone altissime della classifica. Dopo aver abbattuto il Levico Terme nella sfida d'esordio, i Dolomiti ci erano chiamati a misurarsi con una delle big del torneo, ossia la Luparense. Hanno vinto 4-2 i Padovani, palesando una serie di difficoltà per i ragazzi di Renato Lauria. Cominciano meglio i Lupi di casa che al 26esimo vanno avanti grazie a Cardellino. Bravo a deludere la marcatura della difesa bellunese e a battere Lombardi. Gli ospiti ancora privi dell'esperienza di Teso nel reparto arretrato vanno in tilte e tre minuti dopo concedono a Ruggero l'opportunità di inventarsi il raddoppio in solitaria. Qui se non altro arriva la reazione bellunese, avviata dal gol al 32esimo di Posocco, bravo a farsi trovare pronto sul cross di Onescu. La Dolomiti domina poi ad inizio ripresa, spinta da un Mosca straripante a sinistra. L'esterno Mancino quasi fa provocare a Fison un autogol, poi sul successivo angolo c'entra in pieno la traversa. Plechero dice poi di no a Corbanese, ma insomma il pari sembra possa arrivare. Ed invece al 79esimo una punizione di Rabbas trova la deviazione vincente di test di Cardellino. Non bastasse, un minuto dopo Rabbas si invola e firma il 4-1. Vanno così nel finale il puro e gran bel gol di Mosca. Insomma dopo due sconfitte in tre partite tra campionata e Coppa c'è ancora tanto lavoro da fare. Prossimo impegno per la Dolomiti bellunesi sabato pomeriggio in anticipo a Feltre contro l'Arzignano. Al momento capolista a punteggio pieno.